Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo su Brawl Stars, siamo nel Co e sono con Bibi. Allora, quello che voglio cercare di fare oggi in questo video, perché io ho deciso che quando faccio video di Brawl Stars, devo trovarmi un obiettivo. Quanto ci manca per arrivare al grado 13? Non è molto facile fare tutto in un video, che dovrebbe durare qualche 15 minuti, boh, non lo so. Allora, fare qualche... 30 trofei. Da 407 ti puoi provare ad arrivare a 30, 37. E sicuramente me ne mancano 38 per il conto, poi non lo so. Vorrei provare anche a portare Bibi al grado 13. No, ma io ci sono andata incontro alla morte. Io ieri giocavo... Tra ieri ha dato molto, perché ho fatto in 40 minuti 79 trofei. In un evento che hanno aggiunto che mi piace un sacco, in annientamento con Bibi. Perché io ieri avevo Bibi al grado 10 e oggi è il 12. Forse vinciamo, forse no. Allora, io penso che uno vince quando... Tipo, ce n'è uno che deve attaccare abbastanza da vicino, però ha tanta vita. Invece ce n'è uno che ne ha poca, però che può attaccare da lontano e quindi ha molte più probabilità se prende la mira. Vabbè, se prende la mira, nel senso se... Se lo prende. Ok, dai. No, si è avvicinato al Levi. E abbiamo perso. Ah no, abbiamo perso proprio... Allora, qua... Non mi piace. Volevo cercare di arrivare a più trofei, invece ne ho avuti già di meno. No, ho sbagliato. In singolo. Sopravvivenza solo, no? Solo, solo. Ok. Allora, sopravvivenza solo, allora dovrebbe durare di meno e se si fanno trofei se ne fanno di più. Poi c'è una probabilità che... Perché poi quando arrivi non troppo lontano... Se vabbè, non troppo che... Se... no. Allora. Quando tipo... Tipo arrivi settimo, te ne toglie, in base al grado. Cioè, però ci sono volte in cui tipo arrivi sesto, quinto, e non ti toglie trofei. E qua appena si arriva, va che al fine scontro, che vinci tu dieci trofei. Quindi qua è molto più facile fare trofei. Ed è meno difficile... Ed è meno difficile perderli. O almeno... Per me, in sopravvivenza solo, è così. Poi per altri, non lo so. E mannaggia. Ok, faccio il gioco ancora. Perché in questo modo, poi anziché dover calcolare in base a quanti ne abbiamo in più, Poi ce lo dice... Poi ce lo dice più quelli. Una power up mi serve. Senza power up non si può combattere. E mannaggia. Qua ne abbiamo persi tipo quattro. No, due. Alla posizione dieci, convivi al grado dodici, due ne perdiamo. Ok, non lo sapevo meglio. Infatti io, quando ho un brawler nuovo, le cose difficili, quelle difficili, le faccio sempre col brawler nuovo. Perché è difficile e lì non pardo niente. Anche che arrivo decima, non pardo. Ok, no, no, no. No, no, no. E mannaggia, di nuovo decima. Sono arrivata. No, no, no. Ma che cambia? Voglio vedere quanti trofei ho presso. Cioè... Praticamente ne ho presi due. Sì, due ne ho presi. Cioè, così, se proprio penso, mi sto seccando già. Corsa dei carrelli. Potrei provare a cambiare quel brawler perché in questo... in corsa dei carrelli sono, o almeno, secondo me, sono molto più forti. Sono molto più forti. E come quelli... assalito... Assalitore. Aspetta, non voglio vedere. Un altro in questo modo. Si chiama proprio assalitore. Sì, si chiama... Gli assalitore. Io li chiamo... No, io li chiamo quelli che sparano da lontano. Ok, va bene. Mi serve un assalitore. Quelli che ho io sono... Stecca, 8 bit e colto. Ora io devo scegliere... Tra questi... Io direi... 8 bit. 8 bit. E andiamo... Ve lo dico già. Ve lo dico già. Non so tra quanto. Perché non c'è una data né niente. Io ve lo dico. Poi non è manco detto che lo farò veramente... No, che lo farò veramente sì. Perché non ve lo direi se lo faccio veramente. Farò un roleplay. Per chi non sa cos'è un roleplay è una storia... Vabbè, ve lo dico facilmente. È una storia. Sola. Io ne faccio di tragiche tutte queste cose. Perché sono sola. E poi in un video ne farò uno. Allora, se vincere questa partita... Allora, se vincere... No, se perdo questa partita lo faccio. Quindi devo perdere. Per l'intento io mi impegno. a vincere. Poi però se non vincere non conto. Perso. Quindi... Per chi sperava che perdeva così che lo facevo... Ho perso. Basti, io mi sono seccato. Sono più brava di sera. Tra quando cambia? Tra 19 ore. Quindi domani praticamente. Vabbè ragazzi. Il video finisce qui. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Iscriviti al mio canale. Metti like per nuovi video. E comunque questo video è stato un fallimento totale. Perché io volevo arrivare a 30 invece ne ho avuti solo due in mano. Vabbè. Ci vediamo al prossimo video. e...